Ormai l'architettura è diventata un'arte nel 2021, infatti ci servono degli esperti per capire se la nostra casa è a norma. Abbiamo qua il geometra Merendine. Signor Merendine, signor Merendine, volevo un piacere. Allora io sono uno che è appena laureato, diciamo, si dovrà laureare in CAD, quindi Costruzione Ambiente e Territorio. Vi faccio vedere subito, vi faccio un esempio, aspetta se riesca, legami. Lei chi è, scusi? Stanno al suo metro, in pratica ha un'ampiezza oraria di 97 pollici. Sì, un metro è qualcosa, ma va bene, tanto non è che bisogna essere tanto precisi, se succede morirà qualcuno. Ok, allora noi intanto vediamo su questa casa se è fatta a norma di un nostro collega. Intanto questo qui è successo. Si chiama il collega? Collega Quartararo, perché ora è un famoso pilota di MotoGP che ora sbarcherà in MotoGP, ufficiale Monster. Dobbiamo, questo qui è il soggiorno più cucina, quindi ampiezza superficie del minimo 16 quadri. 16 quadri? Cioè, si dovrebbero poter mettere 16 quadri, quindi. Sì, quadri sopra i fatti. Dovrebbero essere 29 pollici, più o meno. Ok, questi sono 29 pollici. 29 pollici, il Rai deve essere 0,125. Qui ci stanno 29 pollici, il Rai 29 diviso 5, quanto viene? 4. Va bene. 4, va bene. Quindi è verificato. Più lì c'è un'altra finestra, andiamo a misurare quanto misura la finestra. Ok? Mari? Vedete, è un lavoro a cui bisogna dedicare del tempo. Non è un lavoro semplice come tutti gli altri, ma è un lavoro in cui bisogna mettere passioni. È una vera e propria arte. Allora, il gatto rappresenta un inquinamento ambientale e se c'è presenza di un gatto il Rai deve essere ancora più maggiore. Deve essere ancora più maggiore. Sono 24 fogli. Abbiamo il metro che misura anche i gatti, come vedete. Il gatto per stare in casa e non inquinare deve essere minimo 30 pollici, questo è? È 24. Allora va bene, vai fuori dai coglioni, c'è un coso per buttarlo fuori da qua. No, no, adesso fare è morbido, mi sta scaldando la mano. Mi dispiace. Miau. Miau. Vabbè, continuiamo a controllare. Continuiamo a continuare. Allora. Ma in teoria il metro parla? Cioè il suo metro parla? Sì, è tecnologico, è come supercar, siccome siamo nel 2021, le tecnologie sono molto più moderne. Vuol dire che parlano e ti dicono se ti hai sbagliato o no, perciò non c'è proprio versi di sbagliare. Anche se ci sono delle tecnologie molto moderne, rimane pur sempre l'architettura un'arte vera e propria, con degli artigiani al lavoro. Io devo continuare, c'è questo. Può verificare, guarda io dico, quel muro misura 30 pollici. Quanto mi dici in metro? Vediamo cosa dici. Lei hai detto una stronzata. Mi dici 34 pollici. Ah, ecco. Però ce l'ho molto vicino. Continui così. Beh. L'arte continua. Allora, ora andremo invece di qua nel bagno. Il bagno deve avere, il bagno deve avere, dai, minimo 0,125. Il bagno deve essere dotato, non è obbligatorio essere dotato di superficie finestrata. Ora andiamo a vedere. Questo è dotato di superficie finestrata, vuol dire che già va bene. Se la superficie non è 0,125 vuol dire che dice Gesù Cristo. Sì, se lì la superficie non è 0,125 ci deve essere un'aspirazione forzata. Un più, qui ci deve essere uno spazio di almeno 60 cm in movimento, qua 35 cm in movimento. Abbiamo una telefonata dalla regia, dobbiamo staccare un attimo.